Un momento in cui bisogna comunque restare concentrati sulle ultime tre partite, perché bisogna portare a casa altri nove punti, che comunque ci sono tre partite importanti, la Pistogliese sicuramente sarà una partita difficile perché si gioca la salvezza, mentre invece in casa contro la Spal dobbiamo mantenere la nostra imbattibilità e poi c'è l'ultima partita a punta d'era, quindi sicuramente è un momento dove bisogna stare concentrati, dove bisogna comunque tenere alta l'asticella e finire al meglio la stagione. Diciamo che una risorsa importante anche per me è fare assist, far giocare bene con quella squadra, perché quando non vengono i gol almeno è bene o male dare una mano alla squadra e cercare di mandare un compagno in porta è sempre gratificante. Chiaramente ora aspetto che il favore sia ricambiato. Senti, quindi archiviati i fischi di qualche settimana fa del Bonone? Ma quello fa solo bene, mi fa crescere perché mi fa allargare un po' le spalle, mi fa crescere di personalità e sto a me adesso a dimostrare, a far vedere quello che valgo, quindi non sarà né la prima né l'ultima volta, penso che accadrà anche nel calcio, quindi non ci sono assolutamente problemi, anzi li capisco, i tifosi, e quindi voglio solo far vedere quello che valgo. Grazie.